Salve a tutti, bentornati, terza ed ultima conversazione su Martin Lutero e vogliamo adesso brevemente confrontare il pensiero di Lutero con quello di Erasmo da Rotterdam che visse tra il 1467 e il 1536. Erasmo fu un umanista olandese di cui tutti, vi prego, dovreste leggere un bellissimo suo libro, L'elogio della follia. Erasmo era convinto, anche lui, con spirito e piglio riformatore, che la riforma della Chiesa fosse necessaria, d'altronde anche i papi, molti papi del 1500 ne erano convinti, ma non in modo luterano. La prima opposizione che Erasmo fece a Lutero fu proprio sul tema del libero arbitrio. Secondo Erasmo l'uomo manteneva piena libertà nella sua natura libera, cioè ad immagine di Dio, di scegliere il bene o il male, quindi di opporsi o meno a Dio. E proprio Erasmo mise in luce, nella sua polemica con Lutero, il terribile pessimismo di quest'ultimo sulla capacità dell'uomo di scegliere e su una dipendenza da Dio che secondo Lutero esiste, ma non è affatto quella del Vangelo. Il secondo punto su cui Erasmo contrastò a Lutero fu proprio sulla dottrina eucaristica. Erasmo ribadì la sua fede personale sul valore della presenza di Cristo nel sacramento dell'altare, cosa che non era la stessa di Lutero. Riprendiamo un attimo la storia. Se volete, a richiesta, non ora dedicherò una conversazione a Giovanni Calvino, Jean Calvain, che a Ginevra, come ho già detto, instarò una dittatura teocratica che fece morti e feriti. Il più importante fu il medico Michele Serveto che si oppose a Calvino. Calvino scrisse una opera intitolata Il De Predestinazione Dei, in cui egli stesso, viva la sincerità, definì la predestinazione un Decretum Orribile Dei, cioè la predestinazione, l'idea secondo cui l'uomo non può far nulla per salvarsi perché è già stato predestinato e deve solo sperare che Dio lo metta dalla parte dei predestinati al bene. Questo Decretum Orribile Dei portò poi a una conseguenza innaturale il pensiero luterano di cui Calvino si faceva erede, che l'uomo non avesse nessun peccato diciamo al suo arco per essere salvo. E occorrerà anche parlare dell'anglicanesimo più in là, cioè la versione inglese del protestantesimo iniziata da Enrico VIII, cattolicissimo ma morto scomunicato, un uomo molto, direi un po' troppo amante delle donne, che si separò violentemente da Roma soltanto per una questione diciamo matrimoniale femminile, portato poi a compimento da Elisabetta, cioè la figlia di Colei, a motivo della quale Enrico VIII si separò da Roma, cioè di Anna Bolema. La storia poi ci racconta anche, altra data importante da non dimenticare, per la verifica della pace di Augusta, una data facilissima da ricordarsi, 1555. La pace di Augusta, siamo già 40 anni dopo l'inizio della riforma protestante, fu siglata da Carlo V, anche se poi di fatto imperatore del Sacro Romano Impero, ormai vecchio, anche se poi firmata dal fratello Ferdinando in realtà, e la Lega di Smalcalda, la Lega di Smalcalda è la Lega dove si erano uniti tutti i principi protestanti del Sacro Romano Impero. È importante ricordare questa pace di Augusta perché vi fu sancita la divisione della Germania che ancora è attuale tra cattolici e protestanti, con un principio siglato in una frase che dovete imparare a memoria. Quius regio, eius religio. Letteralmente si traduce di chi è la regione, di lui si segua la religione. Cioè a dire che chi era cattolico e si trovava in uno stato governato da un principe protestante o stava zitto o doveva cambiare e emigrare, traslocare verso un principato cattolico e viceversa. Fu una pace discreta che però non comprendeva calvinisti e nabattisti, tanto che poi le tensioni ripresero e molti anni dopo, nel 1648, si ferma un'altra pace, la pace di Westfalia. La storia poi ci racconta delle terribili guerre di religione tra cattolici e protestanti soprattutto in Francia, culminate con la strage della notte di San Bartolomeo il 24 agosto del 1572. Furono uccisi molti ugonotti, si chiamavano così i protestanti francesi, furono uccisi dai cattolici. Fu un conflitto sanguinoso con colpi reciproci e la necessità di rifare un'altra volta per la seconda volta, perché il primo non era bastato, un secondo editto di Nantes nel 1598 attraverso il quale si cercava di mettere pace all'interno della Francia tra cattolici e protestanti. Gli ugonotti erano chiamati così dal tedesco Eidgenossen, che significa letteralmente confederati. Gli ugonotti francesi erano soprattutto di fede calvinista. La storia ci parla poi del concilio di Trento, di cui parleremo nella prossima conversazione, è di una provvidenziale reazione dal basso, altra conversazione soprattutto in Italia, in Spagna, in Austria e nei paesi dell'est, che permise a gran parte dell'Europa di rimanere cattolica. Aggiungeremo anche qualcosa sulla crisi attuale della confessione anglicana e sul ritorno di molti anglicani al cattolicesimo. Il dialogo tra il mondo cattolico e il variegato mondo protestante, perché è un dialogo molto difficile per il motivo che dicevamo nella prima conversazione, il mondo protestante è molto diviso, quindi oggi si parla prevalentemente di dialogo tra il mondo cattolico e il mondo luterano, che peraltro è una piccola parte del mondo protestante, ha avuto un momento forte nella dichiarazione comune di Augusta, 31 ottobre 1999, alla vigilia dell'anno santo del 2000, che si volle firmare ad Augusta, proprio per ricordare la pace di Augusta già citata prima. Il documento è un documento comune tra cattolici e luterani. Il primo principio è un bel documento, anche da leggere, dice che i luterani riconoscono l'importanza delle opere che sono complementarie alla fede, le riconoscono, quindi si staccano un po' dal luteranismo, soprattutto dal calvinismo originale. E i cattolici, questo sì che lo dice San Paolo, dicono che le opere non possono comprare la salvezza, è chiaro, però vanno fatte ma non possono acquistare automaticamente la salvezza, non c'è una pretesa di salvezza in base alle opere, la salvezza rimane un misterioso dono di Dio che sa e vede e giudica le intenzioni di ciascuno. La seconda cosa di questa confessione comune è che il peccato dell'uomo è una realtà ma può essere perdonato, anche se rimane, nonostante questo documento, la divisione tra cattolici e protestanti sulle modalità sacramentali per i cattolici, individuali per i protestanti, di ottenere il perdono divino. Un terzo punto rimane un forte dubbio sulla Chiesa. La Chiesa è, nonostante il documento buono, uno strumento di salvezza, cioè è necessaria per entrare nella salvezza, come dicono i cattolici, o è una realtà sociologica, una assemblea dove ci si conosce, si viene informati e formati, cioè una realtà prevalentemente cultural-religiosa. Concludo con un'opinione personale che in qualche modo, secondo me, è un'evidenza. Le Chiese cattoliche, quando sono animate, soprattutto nella catechesi, nella liturgia, nelle opere di carità, sono Chiese vive. Vi si avverte all'interno una partecipazione che ci dà la misura della ricerca, della salvezza e del non poterne fare a meno, della sete, della brama di salvezza. Spesso invece, dico spesso, non dico sempre, le Chiese protestanti sono aule fredde, aperte soltanto per il culto, il culto protestante è molto bello, ma dove non si avverte vita e non si vedono soprattutto poveri alle loro porte. Questo lo spiegheremo meglio, ma a buon intenditor poche parole. Alla prossima!